... Tutti gli anni cerchiamo in qualche modo di proporre qualcosa di alternativo che richiami anche in parte il teatro al canzone. È previsto il concerto per l'evento del 30 da Rino Gaetano Belli, c'è un piccolo spostamento perché i ragazzi sono arrivati abbastanza tardi da Roma, col tempo e se ti resto, e intanto vi aspettiamo appunto il gruppo che poi si preparerà. Mi fa molto piacere chiamare sul palco, tra un attimo lo chiameremo, c'è un anteprima che non era prevista, ed è una poetessa, Martina Campi, sabato scorso c'è stata la premiazione del premio Giorgi, del Circolo delle Volse da Luna, di Sassomarconi, e siccome ero presente, mi è piaciuta molto l'interpretazione che hanno fatto delle loro poesie, tra l'altro ha vinto il primo premio, il premio della sezione A, e anche perché assieme alla poesia hanno collegato la musica, cosa che secondo me ci può stare benissimo, anche se so che ci sono magari alcuni critici che preferiscono dividere le due cose, quindi poesia è una cosa, la canzone è un'altra, però a mio avviso ci può stare, e credo che in questo caso appunto Martina abbia dimostrato che si possa fare un l'altro. Io, diciamo così, mi sembrava abbastanza normale dare questo spazio di un quarto d'ora, venti minuti a questo gruppo e alle voci della Luna, perché è un'associazione di Sassomarconi che ormai da tanti anni lavora sul territorio, noi siamo un'associazione anche noi, culturale, quindi credo che sia abbastanza normale che ci sia questo tipo di collaborazione, non sempre, purtroppo questo avviene, noi come associazione cerchiamo di farlo e ci auguriamo che anche gli amministratori nostri si accorgano che ci sono delle realtà che vanno avanti e cercano di creare qualcosa di buono. Io a questo proposito chiamerei un attimo il presidente del Circo delle Voci della Luna, Marinella Polidori, facciamo che fare un applauso per intanto, ci parliamo un attimo, per evitare di dire cose che poi non siano giuste, perché poi io parlo di poesia ma non me ne intendo molto, non sono un critico musicale né tantomeno un poeta, per cui, quindi, due parole per quanto riguarda le Voci della Luna e ovviamente anche per quanto riguarda Martina Cardi che poi presenteremo con il gruppo. Sì, io intanto ringrazio Danilo, l'associazione Le Nuvole, perché per noi questa è veramente un'occasione importante, io condivido, anzi sono felice, spero ci siano anche gli amministratori, condivido e sottoscrivo il discorso delle associazioni e del territorio. Noi siamo un'associazione culturale, come tutte le associazioni culturali facciamo tanta fatica, come probabilmente anche Le Nuvole, però portiamo avanti dei patrimoni che sono di questa città e di questo paese. Il premio Giorgi è dedicato a un grande personaggio di Sassomarconi, che è stato sindaco, poeta, educatore, partigiano, e ormai questo premio ha 18 anni. Quest'anno Martina Campi ci ha dato l'occasione di essere qui ospitati da amici e noi siamo felicissimi perché la poesia sta tornando ad essere quello che era un tempo, ritmo, silenzio, pause. Martina, io non voglio farla lunga perché sarà importante per voi ascoltarla, sta recuperando questa dimensione, la più importante della poesia, che è la dimensione musicale. Ho visto la giuria scegliere i suoi testi non sapendo assolutamente che Martina fosse una performer, la scelta sulla base di testi veramente molto eleganti dal punto di vista formale e stilistico. In più Martina, come vedrete, cerca un ritmo, cerca una pausa, cerca un ascolto che è la dimensione giusta per dilatare il tempo. La sua poesia è una poesia di dilatazione di spazi, una poesia olistica, come qualcuno l'ha detto, panica per quelli che hanno studiato la poesia a scuola, una poesia appunto che cerca di ricondurre l'emozione a un sentimento di condivisione esistenziale con la natura. Non mi dilungo di più, ringrazio ancora Danilo e le muvule e spero che questo inizio che ci è stato dato sia il meglio per voi. Grazie. Grazie Marinella, allora direi che possiamo partire. Vi ricordiamo anche il libro di poesie appunto appena stampato, se qualcuno fosse interessato è in vendita presso il banco degli amici di Emergency. Quindi a questo punto possiamo dare il via a Martina Campi e i segnatori. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Per quanto possa sembrare strano, abbiamo da imparare che il tempo non esiste. È solo il vento che si espande, è solo il vento che si espande. È solo il vento che si espande. Grazie a tutti. Grazie a tutti.